Ripartiamo da Monteberico e da Monteberico non possiamo non parlare di un tema caldo di questi giorni, che è il tema dell'immigrazione, in riferimento anche al caso della nave Diciotti con il centinaio di profughi bloccati in un porto. Un tema che ha portato a galla evidentemente, prepotentemente anche lo scontro che esiste tra Italia e Europa per quanto riguarda l'accoglienza. La Diocesi, la Chiesa più in generale, hanno dato la loro disponibilità e in qualche modo hanno risolto parte di questo problema. Monsignor Pizziol, anche lei aveva dato la disponibilità per l'accoglienza. La Chiesa da che parte sta? Sta dalla parte dell'Italia? Sta dalla parte dell'Europa? Dunque, la Chiesa sta dalla parte delle persone. In qualsiasi situazione vengano a trovarsi, perché per la Chiesa la persona è il fondamento. Noi richiaviamo questa, che potrebbe essere una filosofia, che potrebbe essere una religione, la richiaviamo dal Vangelo. La persona di Cristo per noi è fondamentale. In Cristo tutte le altre persone. Quindi tra me, Vescovo, e uno che era sulla Diciotti, a livello di dignità umana è la stessa cosa. Lui ha gli stessi diritti fondamentali che ho io. E allora, prima di arrivare a alcune proposte di soluzione che già dal 2011 e poi ribadite nel 2015, nel febbraio, prima di arrivare a delle risposte, una considerazione generale sul fenomeno migratorio, che ha conosciuto tutte le epoche storiche, adesso si impone in modo molto più forte. Perché motivo? Perché abbiamo mezzi di spostamento più veloci, capaci ad esempio attraverso anche i social di capire come vivano. Ad esempio, io sarò stato una decina di volte in Africa a incontrare i villaggi, non andare nelle spiagge a far vacanza. Incontrare le persone nei villaggi e anche le più povere hanno uno smartphone adesso, nel passato il cellulare, che vengono poi dati da noi perché ci producono anche soldi e lì guardano come viviamo noi. Ed è chiaro che sono attratti da questo. Allora il vero primo problema è di pensare un'economia mondiale dove il partire per primi, vuol dire partire dagli ultimi, da quelli che hanno meno. Allora tutti diciamo aiutiamo l'Africa, ma aiutare l'Africa vuol dire andare lì, vedere quali sito, come i nostri missionari, ma non saranno loro a risolvere il problema dell'Africa, sono delle gocce in un oceano. Quindi il problema va risolto lì? Va risolto in Africa e nei altri paesi, cioè va risolto dove ci sono persone che vivono ai limiti della dignità umana. Io li ho incontrati questi bambini simpaticissimi, adesso sono più nutriti perché in fondo si riesce a intervenire più di altre volte, più di altre epoche. Però il problema è che se ci sono dei popoli che vogliono vivere bene con tutti i mezzi, con tutte le possibilità e ne aumentano sempre di più e lasciamo gli altri a livello proprio di povertà assoluta, questi sanno di rischiare la vita nel loro paese e rischiano anche di attraversare il Mediterraneo nella speranza di arrivare. Allora la chiesa di Vicenza, soprattutto quando il vescovo girando per le parrocchie, girando per Campo Marzio e girando per le strade, vedeva questi africani, giovani che erano lì col cellulare, che erano a rischio di essere strumentalizzati dai più furbi, dai più astuti per vendita di droga, per prostituzione, dico diamo una piccola risposta e la piccola risposta è stata troviamo un appartamento in ogni vicariato, sono 22 i vicariati, adesso 17, accogliamone 4 al massimo 5, mettiamo vicino un gruppo di volontari che li possa insegnare italiano, che li possa portare in ospedale se hanno bisogno, che li possa portare a condividere un po' della nostra vita e in modo anche controllato e quindi di per sé anche con criterio di sicurezza. Senta, il tema dei migranti sta creando anche notevoli tensioni sociali che vengono alimentate anche dai nuovi media, dai social, si scrive di tutto, tutti scrivono di tutto. Per frenare questo effetto, secondo lei deve esserci anche un maggior senso di responsabilità da parte di chi ci governa, che tante volte invece accentua i toni, carica i toni. Ma questo è evidente, c'è da parte di tutti di avere una visione globale, non si può avere una visione parziale, cioè arrivano qui, non li voglio qui. E te la domanda, dove vanno? Restano in mare? Mandiamo nuovamente in Libia? Parliamo di Libia in questo momento, con il rischio che adesso ci arrivino. Perché? Perché le forze europee, i grandi nazioni europee, sono divise tra di loro per il petrolio e appoggiano. Ora uno è appoggiare, cosa vuol dire? Questo secondo me non trattiamo mai. Ci sono tre commerci, e se voglia ne aggiungo un quarto, che sono devastanti. C'è il commercio degli esseri umani e degli organi umani, c'è il commercio delle armi, c'è il commercio delle droghe e se vogliamo aggiungiamo anche il commercio dei rifiuti tossici, che ha una sua importanza. Siccome questo determina la politica generale e noi abbiamo il piccolo problema dell'immigrazione che vogliamo risolvere a prescindere da questo. E quindi su questo l'Europa è mancata? Sì, sì, questo è evidente. È mancata, perché dici, tu Italia sei così conformata geopoliticamente e ti arrangi. Ecco, questo è da condannare. Senta, Monsignor Pizziolo, parliamo di un altro tema, un tema difficile che tocca la Chiesa. La Chiesa che vive forse uno dei suoi momenti più difficili relativamente alla questione della pedofilia. Anche il Papa in questi giorni si è espresso criticamente, ha detto la Chiesa ha fallito e io mi vergogno. Parole forti che fanno capire l'entità del problema, che sicuramente mette anche in difficoltà chi quotidianamente lavora sui territori e deve diffondere la fede. Dunque, anzitutto la mia solidarietà al Papa, ma poi io rifugo sempre dall'individuare un segmento storico di un'epoca che sia il più grave conosciuto. Se andiamo a vedere il Medioevo anche in ordine agli scandali e troviamo delle pagine, perché quelle lì non sono emerse tanto quanto oggi gli scandali di pedofilia? Perché non c'erano i mezzi che abbiamo a disposizione noi. Allora, tornando alla crisi, è una crisi reale, va ammessa, dobbiamo chiedere perdono di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre ingiustizie, questo è chiaro e quindi l'atteggiamento deve essere di umiltà e non da impalcarsi a giudici di chissà chi. Il fenomeno della pedofilia a me sconvolge perché prima di tutto è un reato, prima di essere peccato per chi è credente, è un reato vero e proprio nei confronti dei minori, quindi va perseguito dal punto di vista penale. Secondo, è una deviazione, una devianza da parte proprio mentale, di potere, di coscienza e sessuale da parte di chi la esercita. Allora, quello che più sconvolge non è l'atto singolo di pedofilia con un bambino che è sempre da condannare ed è già una cosa gravissima e quando poi avvengono numerosi e quasi sembra che in alcuni ambienti di scuole, di collegi sia diventato anche sistematico da parte di alcuni, questo ti fa sprofondare per terra, questo ti crea neanche da alzare la testa, ti fa vergognare. E allora cos'è che anche lì dobbiamo cercare le cause? Le cause possono essere queste, la mancanza di un'educazione all'affettività, la sessualità di noi preti e nei nostri seminari, questo è un problema serio, no? E poi di una coscienza che sia legata al Vangelo, che sia capace di vedere in quei bambini delle persone che vanno rispettate al massimo. Monsignor Pizzola, l'ultima cosa perché stiamo arrivando alla conclusione, siamo a Monteberico, non possiamo pensare alle mamme, un certo tipo di mamme, le mamme no FAS che lei ha ricevuto anche recentemente, che nella sua lettera di Natale aveva definito le mamme coraggiose, quello dei FAS è un grosso problema che deve essere risolto perché in gioco c'è molto. Anche lì partono sempre le mamme, partono dalla realtà, non fanno discorsi politici astratti, no, c'è stata una indagine commissionata dall'Europa su quel territorio che in qualche modo lega tre province, Vicenza, Verona e una parte di Padova, che coinvolge 350 mila persone, non so quanti comuni e hanno trovato che ci sono delle sostanze inquinanti, FAS ma poi FOA e adesso ne è venuta fuori anche un'altra ultimamente e le mamme hanno fatto i controlli ai propri figli e quando hanno trovato o il colesterolo o ha trovato queste sostanze alterati, cosa fa una mamma di tutto il mondo e le mamme di tutto il mondo? La prima cosa, difendiamo i nostri figli. Allora gli obiettivi che ci sono date queste mamme sono secondo me questi quattro, prima dobbiamo difendere in modo assoluto i nostri figli, ma poi mamme sono diventati genitori, poi sono diventati cittadini no FAS, allora secondo dobbiamo difendere tutti i cittadini che abitano in questo territorio, terzo noi dobbiamo far sì che questi ragazzi abbiano un'acqua pulita, un'acqua sana, tutti i ragazzi e tutti i cittadini, quindi lottare per un'acqua pulita e quarto lottare per la terra perché con quell'acqua, con quelle falde inquinate si producono le verdure, le piante, i frutti che poi entrano e quindi ha creato grossi problemi perché non bevono più l'acqua dei dobbinetto. Allora c'è anche il problema del rapporto tra la produzione e quindi una fabbrica e la cittadinanza, io credo che siamo oggi così avanzati, così capaci anche dal punto di vista tecnologico di far coesistere fabbriche pulite e territorio sano, acqua sana, terra sana, questo è l'obiettivo. Bene, con questo augurio, con questa speranza ringraziamo Monsignor Pizziola per questa chiacchierata in occasione dell'8 settembre, grazie e auguri a tutti. Grazie a lei, grazie alle domande.